È stata fatta una copertina shock su Chiara Ferragni Siamo di fronte ad una versione di Chiara Ferragni stile Joker Chiara Ferragni e Fedez hanno reagito a questa copertina Quella bellissima cover che è stata fatta Ma delle intercettazioni di esponenti della mafia in cui si parla del proprietario dell'Espresso ne parlerete mai? Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni diverse Ciao scapati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo nuovissimo video dedicato alla famiglia Ferragni Oh mio Dio sono super emozionated È stata fatta una copertina shock su Chiara Ferragni Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto gossip drama e il meglio e anche il peggio dei Ferragnez Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ed eccoci qua ragazzi, nuovo video dedicato ai Ferragnez Nuove notizie super super shock Sì perché le luci della ribalta non si spengono sulla famiglia più discussa di sempre I nostri Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez che in queste ultime settimane hanno fatto largamente discutere Tra separazione, guai giudiziari, addirittura delle accuse di tradimenti Insomma, chi più ne ha più ne metta, non so più neanche a quale video far riferimento Per questo motivo se vi siete persi tutte le puntate precedenti Vi lascio qui nella i di informazioni la playlist completa sui drammi della famiglia Ferragnez Oggi invece tutto cambia, parleremo di Chiara Ferragni Ma prima di entrare nel vivo del nostro argomento Perché ci sono veramente tantissime cose che devo raccontarvi Voglio fare un augurio speciale a tutte le donne So che il mio canale viene seguito principalmente da donne Giovani, meno giovani, insomma anzi no, non meno giovani Diversamente giovani Quindi tantissimi auguri a tutte quante voi Ma i miei auguri non sono quelli da mimosa o quelli smielati Che mi è capitato di leggere in queste ultime ore sui social Io voglio dirvi questo Il mio augurio è quello di un giorno prima o poi avere tutti quanti gli stessi diritti Perché ricordiamolo, l'8 marzo non è una festa così, no? Da fare festa, uh 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 Cioè poi ognuno decide come festeggiare, come meglio crede Cioè secondo me anche chi va dagli spogliarellisti fa bene ragazzi Cioè ci andrei anch'io onestamente, cioè sotto me dite spoglie con una parrucca Ci andrei pure io a vedere gli spogliarellisti l'8 marzo Ma a parte questo è una giornata molto importante per i diritti, no? Quindi il mio augurio è quello di avere prima o poi tutti quanti gli stessi diritti Che le donne siano e possano essere libere al 100% di scegliere del proprio corpo Sto parlando dell'aborto e di tante altre cose Quindi il mio augurio è veramente questo E appunto di donne parliamo meglio Della donna più discussa d'Italia Parliamo nel video di oggi Cioè Chiara Ferragni, imprenditrice digitale Che è finita al centro di mille polemiche Ultima tra queste è ovviamente la copertina Che le è stata dedicata da un notissimo settimanale Sto parlando dell'Espresso Uno dei settimanali più letti Più insomma anche longevi se vogliamo Della stampa italiana Nasceva nel 1955 Grazie ad Arrigo Benedetti E ha sempre parlato di economia, cultura, eccetera, eccetera Diciamo con una sorta di vena satirica Che per farvi capire io potrei paragonare a Charlie Hebdo Adesso magari qualcuno dirà Oh mio Dio ma che cosa stai dicendo? Sì ragazzi Charlie Hebdo per chi non lo sapesse Hebdo Madère In francese significa settimanale È un settimanale satirico Francese che come ben sappiamo È noto a tutti quanti noi Per i tragici eventi avvenuti Credo dieci anni fa Forse sì perché era il 2014 Se non mi sbaglio Io andavo ancora alle superiori Comunque a parte questo Più o meno Soprattutto per quanto riguarda le vignette Le copertine L'Espresso un po' si rifaccia a Charlie Hebdo Tante no? Sono le copertine che in questi ultimi anni hanno fatto discutere Ce ne sono tantissime dedicate a Silvio Berlusconi Tantissime a Matteo Salvini Eccetera eccetera E devo ammettere Spesso e volentieri sono state molto ingiuriose Nei confronti dei protagonisti delle loro copertine A finire sulla copertina dell'Espresso È stata proprio lei Chiara Ferragni Come vediamo da questa copertina appunto Chiara Ferragni è stata ritratta in giacca e cravatta E addirittura con un make up Che però non è quello solito che siamo abituati a vedere Anzi siamo di fronte ad una versione di Chiara Ferragni Stile Joker Un clown Un pagliaccio Insomma tante sono le cose che sono state dette su questa copertina Ma adesso andiamo a leggere Quello che è in breve il contenuto di questa inchiesta Fatta proprio dall'Espresso Ferragni SPA Il lato oscuro dichiara Una rete ingarbugliata di società Una girandola di quote azionarie Tra partner ingombranti Manager indagati E dipendenti pagati poco L'influencer è a capo di un impero economico Dove la trasparenza non è di casa Oltre alla Ferpandoro e ai sospetti follower falsi Al centro delle indagini della procura di Milano ci sono anche gli strani movimenti nella galassia delle sue aziende Dopo anni di utili milionari Ora i problemi di reputazione li mettono a rischio E tremano i fondi pensione che hanno investito in società collegate Insomma come abbiamo visto questa è letteralmente un'inchiesta a 360 gradi se vogliamo Per Chiara Ferragni, per le sue aziende, le sue società Quindi insomma tutti si sono soffermati esclusivamente alla copertina Viene sempre detto non giudicare un libro dalla sua copertina Eppure questo è quello che è stato fatto Parleremo più avanti di questa inchiesta Ovviamente a grandissime linee Perché uno, non ho qui il settimanale Due, potrei non essere in grado di capire benissimo Soprattutto discorsi economici Quindi insomma per, come posso dire, consapevolezza Non mi sento di indagare ancora di più su questi affari Ovviamente questa copertina è sbucata sui social proprio da parte dell'Espresso Il 7 marzo, ieri Oggi invece è l'8 marzo, festa della donna come vi dicevo Ed ovviamente questo settimanale è uscito in tutte le edicole d'Italia L'8 marzo, giornata mondiale della donna Che ovviamente è un po', come posso dire È in contrasto, no, se vogliamo Con la rappresentazione di Chiara Ferragni Una donna importantissima lì su quella copertina Paragonata ad un Joker, ad un pagliaccio Quindi insomma, ovviamente in prima battuta Ci sono state tantissime persone Che hanno avuto le più disparate reazioni di fronte a questa copertina Da una parte ci sono le persone che dicono Oh mio Dio, ma cosa stiamo guardando? È letteralmente un atto di violenza di genere questa copertina Dall'altra invece c'è chi dice Questo è giornalismo, è il tone of voice dell'Espresso Ma soprattutto siamo di fronte ad una satira, no? Di una non donna, ma più che altro un'imprenditrice Di questo ne parleremo anche più avanti in questo video Adesso però andiamo a vedere quello che è stato In prima battuta il commento Di una delle maggiori detrattrici di Chiara Ferragni Sto parlando di Selvaggia Lucarelli Che ovviamente qualche mese fa, anzi oramai un anno fa Aveva iniziato ad indagare, insomma a fare questa inchiesta Sul Pandoro Gate Bene, su Twitter infatti leggiamo questo L'indignazione di alcuni per la copertina dell'Espresso È chiaro indizio di quante persone ignorino cosa sia il potere Quella copertina non affossa Sancisce il fatto che Chiara Ferragni sia, sia stata Una donna di grande potere E che come tale subisca gli effetti della caduta Conquistandosi copertine irriverenti, amare e sarcastiche I precedenti sono infiniti Se riguardano molto spesso la politica E per due ragioni Perché la politica rappresenta il potere per eccellenza E perché mai in Italia Un personaggio fuori dalla politica Nell'ambito dei nuovi media Aveva avuto 30 milioni di follower Un patrimonio finanziario L'attenzione dei media tradizionali E non, anche all'estero E l'ambizione di influenzare il pubblico Anche in campi vicini alla politica E al sociale Fino a ieri, quando c'era solo da celebrarla Si è parlato di Ferragni come imprenditrice Di successo, fenomeno, donna più influente nella moda per Forbes Unica, vera, opposizione al governo Oppenheimer e via dicendo Oggi ci sembra strano che venga trattata esattamente come viene trattato il potere Quando il potere si schianta su vanità e ingordigia o fraintendimenti Per il resto, questi sarebbe il tema Io ho letto l'inchiesta Molto tecnica E mi sembra che ci sia poco di clamoroso I dipendenti hanno stipendi medi D'amato in TBS Come consigliere prende 320 mila euro l'anno Ci sono passaggi che può spiegarvi meglio Chi si intende di economia Che indicano alcune opacità nelle società Se io fossi Chiara Ferragni oggi Tra la copertina versione Joker Mica Clara Bella E la vostra difesa infantile Come fossi la piccola Fiammiferaia Mi sentirei più offesa dalla seconda La verità è che non capite nulla Né di potere Né di giornalismo Se il giornalismo ha una colpa in questa storia È stata quella di non aver mai occupato lo spazio intermedio Tra il successo e la caduta Ovvero quello dell'analisi e della critica In parole povere dei fatti Quindi insomma questa è inizialmente La posizione di Selvaggia Lucarelli Come lei anche tante altre persone hanno detto Ma insomma non inneggiamo alla violenza di genere Sulle donne in questo 8 marzo Perché in realtà il discorso è tutt'altro E voglio andarvi a leggere Alcuni commenti che ho trovato su Twitter E che ci fanno veramente capire Come l'opinione pubblica si sia veramente divisa Da una parte chi prende le difese di Chiara Ferragni Dall'altra chi invece dice No, è giusto che ci sia questa copertina Ad esempio questo ragazzo dice Chi si lamenta di questa copertina Non capisce che Chiara Ferragni Non è solo una donna Ma un'azienda e uno status costruito negli anni Anche grazie all'utilizzo di beneficenza Come riflettore E a sentenze fatte Guadagno Non è gogna alla persona Ma decostruzione di un idolo E poi Chi pensa che questa copertina sia violenza Uno, offende le vere vittime di violenza Due, non ha mai visto le altre copertine dell'Espresso L'hanno truccata da clown Anche ragionevolmente Visto tutto quello che è uscito su di lei Riminchiatevi Punto E sempre sul discorso Chiara Ferragni Violenza sulle donne Con questa copertina C'è chi dice Il soggetto non è la donna Chiara Ferragni Ma è l'imprenditrice Chiara Ferragni Nascondersi dietro il sessismo E strumentalizzare la festa della donna Per difendersi Conferma la mia teoria Che non ha capito l'errore commesso E nessuno Di chi la circonda Gliel'ha spiegato Sì perché adesso Andremo anche a leggere Più tardi in questo video Quella che è stata la reazione Da parte del team Di Chiara Ferragni Di Chiara Ferragni In prima persona Comunque insomma Da una parte lo abbiamo visto Abbiamo tutte queste persone Che dicono Ma insomma Voi vi lamentate Di questa copertina dell'espresso Per il semplice fatto Che una copertina dell'espresso Evidentemente Non l'avete mai E poi mai Vista E soprattutto Insomma Ci sono delle accuse Di ignoranza A livello giornalistico Ignoranza a livello anche Imprenditoriale Comunicativo Eccetera Eccetera Parlando sempre Di critiche Insulti Questa copertina È stata ripresa Anche da Trash Italiano Che come sempre Ripropone Le notizie più scottanti Del momento Bene Sotto nei commenti Dedicati a tutta questa vicenda Della copertina dell'espresso C'è una persona Chiara Scelsi Da quello che ho capito Una modella Che dice È la più bella cover Mai fatta E di fronte a queste Parole Ovviamente Una persona Molto vicina a Chiara Ferragni Sto parlando di Veronica Ferraro The Fashion Fruit Si chiamava Mille anni fa Quando aveva anche lei Un blog di moda All'inizio proprio Inizio 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 Dei blogger in Italia Cosa succede? Lei difende la sua amica Chiara Ferragni E dice Beh poveretta Sei qui a gioire per questo Mentre fino a qualche mese fa Le leccavi il culo In DM Come se non ci fosse Un domani E qua voi non siete pronti Perché a inizio Un vero e proprio Botta e risposta Questa Chiara dice Veronica che mette i like A insulti così beceri Sulla droga Forse è meglio che ti guardi un po' gli amici che frequenti Non sono tutti santi Poi dice Amore io so bene che cosa scrivevo a lei Dato che oltre a cose di m***a come queste Aveva fatto a mio parere anche tante cose belle E mi sono sempre sentita di dirlo Questa ultima delle truffe Ha un po' magari fatto traperare Una sua vera personalità Diversa da ciò che voleva mostrare E poi vabbè Molte volte sono stata costretta da terzi A dover mantenere dei rapporti con lei Insomma ragazzi Dei commenti che io non avrei mai E poi mai scritto Cioè piuttosto non dire nulla E basta ecco Soprattutto se ci sono Dei collegamenti Dei rapporti con la persona Che insomma Viene criticata nel post Comunque insomma Ognuno Libero di dire quello che gli pare Detto questo però Adesso Passiamo oltre Ed ovviamente se da una parte Ci sono gli insulti Le critiche le persone che dicono Si è giusta questa copertina Dall'altra ovviamente Ci sono persone Che prendono Le difese Di Chiara Ferragni Prendono le difese Delle donne in particolar modo E prima tra tutti È Elisa Dospina Da sempre Dalla parte delle donne Da sempre Lotta Per la body positivity Ecco Elisa Dospina Ha ricondiviso la copertina E ha detto Mi raccomando Domani Inondateci di mimose C'era una volta Il giornalismo E a prendere le difese Di Chiara Ferragni Ovviamente È stato anche Upsi.it Ovvero Una pagina Super seguita su Instagram Che dà sempre Delle notizie scottanti E hanno voluto Scrivere questo Vediamo se lo trovo Eccoci qui 8 marzo Tutto l'anno Dicono Ma come tutti Claim retorici Purtroppo Tutte le volte Si riduce A stronzata Oggi Come molti di voi Abbiamo visto Quella che dovrebbe essere La nuova copertina Dell'Espresso In uscita come di consueto Il venerdì Cioè domani Proprio nel giorno Della giornata internazionale Dei diritti delle donne L'oggetto del dibattito È una foto di Chiara Ferragni Per l'occasione Trasformata in versione Joker Coincidenze astrali Dire a qualcuno Solo che a pensar male Si fa peccato Ma molte volte Si indovina Il settimanale Ha scelto questa immagine Per riassumere Una sua inchiesta Sulla trasparenza Delle sue aziende Raffigulandola Travestita Da pagliaccio malefico Come il noto personaggio Della DC Comics L'ennesimo mezzo Di informazione Salito sul carrozzone Di chi ha nel mirino L'imprenditrice Ne parla a qualsiasi costo Ignorando che sì La Ferragni È al centro Di alcune inchieste Ma che Fino a prova contraria Deve ancora affrontare Eventuali processi O sentenze Ma del garantismo Alla maggior parte Dei media Non frega un granché Perché vedere il pezzo Grosso In difficoltà Soprattutto poi Se una donna Così potente E famosa Fa venire troppo L'acquolina in bocca Di articoli Attacchi frontali E scomposti Sui social Nei confronti Della già colpevole Per il tribunale Del web Chiara Ferragni Ne abbiamo visti Tanti negli ultimi Tre mesi Ma questa copertina Specie per la data In cui esce Rimane deplorevole Hanno scherzato E preso in giro L'imprenditrice Per la questione Del fraintendimento E dell'errore Di comunicazione Ma forse ad averlo Compiuto questa volta È una parte Dell'informazione Sempre più assetata Di titoli clickbait E meme Di bassa lega Degni del peggior profilo Di twitter Tanto vale Tutto Pur di vendere Due copie In più Ed io sono assolutamente D'accordo Con questa visione Non tanto per quanto riguarda L'8 marzo La giornata mondiale Dei diritti delle donne Quanto più invece Proprio per un'agonia Mediatica Veramente A gratis Contro Chiara Ferragni Però insomma Questo è Quanto Adesso però Spostiamoci E dobbiamo ovviamente Parlare della persona Che innanzitutto Per prima Preso le difese Di Chiara Ferragni A grandissima sorpresa E parliamo Di Fedez Suo marito I due lo sapete Stanno vivendo Una crisi Abbastanza forte Almeno questo Per sua stessa missione Ha detto Chiara Ferragni A che tempo che fa Oggi Siamo qui Per vedere Quella che è stata La reazione Di Fedez Di fronte a questa Orrenda copertina Dell'Espresso Per prima cosa Infatti Condivide Questa foto Lo vediamo Lui è l'editore Che si chiama Donato Ammaturo Dell'Espresso Proprio Fedez Con anche una canzone In sottofondo Dal titolo Pieno di stronti Dice Espresso settimanale A quando una bella inchiesta Sul vostro proprietario Petroniere Aspetto con ansia E poi si lascia andare Appunto a degli screen Delle notizie Che sono veramente Molto forti Per quanto riguarda L'Espresso E il suo editore Infatti Condivide questo Marcello Minenna Ex direttore Dell'Agenzia delle Dogane Oggi indagato Per corruzione Era diventato Un plenipotenziario Della terza Agenzia fiscale E nel periodo Di regno Si era occupato Anche di Ludoil L'azienda Di Donato Ammaturo L'imprenditore Ed editore Dell'Espresso Dello scorso maggio L'impero petrolifero Di Ammaturo Ha accolto di recente Un manager Molto vicino A Massimo D'Alema Si tratta Di Rodolfo Errore Nominato Amministratore Delegato Di Luce Spa Fino al 2021 Presidente di Sace La società assicurativa Finanziaria Controllata dal Ministero dell'Economia Minenna Nei suoi cinque anni Alla testa Delle Dogane Ha assunto Decisioni contestate E andiamo avanti Perché poi Fedez dice questo Ricondivide Credo Dei pezzi di articoli E dicono Lo stesso Ammaturo Veniva quindi Indicato da Giuseppe D'Amico Imprenditore Complice Della Cosca Come un soggetto Prestanome Riciclatore Della criminalità Organizzata Campana In particolare Del clan Dei Casalesi D'Amico Diceva Ammaturo Ci sono i soldi Ci sono quelli Dei Casalesi Lui Solo il nome Ammesso Immediatamente Suffragata Da Silvana Mancuso Con un secco Infatti La nipote Appunto Del boss Ma delle intercettazioni Di esponenti Della mafia In cui si parla Del proprietario Dell'Espresso Ne parlerete mai E poi aggiunge La società E Ammaturo Più volte Sollecitati A commentare Questi atti Non hanno voluto Rispondere Ma ci hanno inviato Una diffida Non pubblicare I contenuti Delle intercettazioni Riteniamo invece Che sia doverosa La pubblicazione Degli atti Anche a tutela Dello stesso Ammaturo Chiamato in causa Da un uomo D'affari Rapporti Con l'Andrangheta In una vicenda Giudiziaria Di cui ha parlato Anche l'Espresso Di cui l'imprenditore E il nuovo azionista Ah no Da quando vi ha comprato Stranamente Non ne parlate più Ah no Mi sono sbagliato Chiedo scusa All'Espresso Settimanale Le intercettazioni Non sono di esponenti Mafiosi Ma di esponenti Della Nrangheta Che dite A carnevale Venite a fare un giro Con noi Vestiti da Ronald McDonald Cioè da bagliacci Che con le quattro copie Che venderete In più Mi sa che ci scappano Anche i coriandoli E le stelle filanti A sto giro Espresso Festa grande Insomma Con queste parole Fedez Difende Chiara Ferragni Difende Il fatto che Insomma Vengano fatte Delle inchieste Su sua moglie Che per carità Va benissimo Perché il giornalismo Deve fare anche questo Ma dove le mettiamo Le inchieste Che riguardano affari Ben più gravi Forse Ben più importanti Beh Insomma Questa è l'invettiva Che Fedez Lancia Al settimanale L'Espresso Cosa succede però Succede che ovviamente Di fronte a tutto questo A parlare Finalmente E anche lei Chiara Ferragni Tramite i suoi legali Infatti Quello che sto per leggervi È un comunicato Ufficiale Che arriva proprio Da chi Deve difenderla Trash Italiano Infatti riporta questo Chiara Ferragni Ha dato mandato Ai propri legali Di valutare Ogni tipo di azione Legale Incluso quella Per il risarcimento Per danni patrimoniali E non patrimoniali Nei confronti Della società Editrice Del settimanale L'Espresso Contestualmente I legali Hanno diffidato L'editore Dell'Espresso Dalla pubblicazione Prevista per domani 8 marzo Del numero Che ritrae La propria assistita In copertina Con le sembianze Di Joker Riservandosi Ogni ulteriore azione Anche all'esito Delle verifiche Sul contenuto Dell'articolo Questa È per il momento La reazione Che ha avuto Chiara Ferragni E tutto il suo team Le ore passano Però Chiara Ferragni È volata Per lavoro A New York Una volta Atterrata Ha deciso Di commentare In qualche modo Quello che sta accadendo Questa gogna mediatica Questa bellissima Come la definisce lei Copertina Che le è stata Dedicata Ascoltiamo insieme Quelle che sono Le parole di Chiara Ferragni E poi le commentiamo Guardate È arrivata a New York Sono qua per lavoro Per qualche giorno Volevo ringraziarvi tutti Perché ho ricevuto Centinaia di messaggi Per quella bellissima cover Che è stata fatta Sono giornate Sono giornate Veramente difficili Per una quantità Di ragioni Diverse Però davvero Mi aiutate tantissimo Mi state sempre vicino E questa cosa Non passa inosservata Quindi grazie Perché anche nei momenti Più duri Voi ci siete E davvero Per me è importantissimo Grazie Buonanotte Insomma Quella che vediamo È una Chiara Ferragni Bersagliata In continuazione Ininterrottamente Giorno dopo giorno Il tutto era partito Da qui Dai social Dalla stampa web No? Eppure L'agonia mediatica Sembra essersi Mutata Dai social E passata Ai media tradizionali Fino ad arrivare Addirittura Alla carta stampata Con tanto di copertina Che la ritrae Come Joker Una pagliaccia Un clown Insomma Tanti sono Gli appellativi Che sono stati dati A Chiara Ferragni In queste ultime ore In questi ultimi giorni Adesso però Arriviamo A un po' Il punto della situazione E voglio dirvi A cuore aperto Tutto quello che penso Su questa vicenda Personalmente credo Che questa copertina Dica tanto Della società italiana Dica tanto Proprio del modo Di comunicare Della società italiana E poco di Chiara Ferragni Mi spiego meglio In questo momento Darle del clown Della ridicola Della pagliaccia È molto semplice Perché Chiara Ferragni In questo momento Esemplifica Una sorta di capro espiatorio Cioè Tutti sono contro di lei Perché lei Incarna tutti I mali Di questa Italia Ora Io non voglio Passare alla Beatificazione Di Chiara Ferragni Anche se io È veramente Da tantissimi anni Che la seguo Ancora prima Che si mettesse Con Fedez Ancora prima Che facesse successo Qua in Italia Io già la seguivo Quindi avrei Avrei tutte le possibilità Per difenderla Ma uno Non sono un avvocato Due Non devo difendere nessuno Perché sicuramente Lei e tutto il suo team legale Sa come difendersi Quello che però voglio dire È che Sì Chiara Ferragni Ha sbagliato È stata indagata Ci saranno dei processi Eccetera Eccetera Ma per il momento Tutto quello che stiamo vedendo Sui social In tv Sulla carta stampata È un processo Alle intenzioni È un processo Che ancora Cioè viene fatto Appunto come veniva detto prima Nel tribunale Dei social Cioè dove tutti Hanno voce in capitolo Ma dove Tantissimi Non hanno le competenze Neanche per parlare Ma nemmeno io ragazzi Che sto parlando Cioè però Quanto meno io Non mi elevo A persona Che dice la verità Su qualsiasi cosa Semplicemente Commento quello che succede In maniera educata Anche questo Vorrei sottolinearlo Perché tante persone Poi si fingono avvocati Si fingono Di tutto e di più E si permettono Di giudicare La qualsiasi cosa Un conto è commentare Educatamente Dire la propria opinione Un conto è offendere E fare gogna mediatica Su una persona Quindi Sì Ci sono effettivamente Delle cose Che sono state fatte male Ok Penso a tutte le Questioni Di beneficenza Di attività commerciale Legate alla beneficenza Eccetera eccetera Però credo anche Che questa gogna mediatica Che va avanti Oramai da dicembre Nei confronti di Chiara Ferragni E sia veramente Arrivata ad un punto Di non ritorno E arrivati a questo punto C'è chi dice Sì vabbè Però insomma A parte la copertina Dell'Espresso C'è un'inchiesta Dietro questa copertina Ci sono dei dati Alla mano Che parlano Che parlano di dipendenti Poco pagati Che parlano di cose Più tecniche A livello anche economico Ma per carità ragazzi Nessuno mette becco Su questo Cioè che il giornalismo Debba fare delle inchieste Più che giusto Cioè il giornalismo Nasce forse Con questa Come posso dire Propensione Per le inchieste Ed è tutto normale Anzi è giustissimo Che venga fatto Ma c'era veramente necessità Di fare questa copertina Di rendere ridicola Anche in questo modo Con Joker Chiara Ferragni Me lo chiedo Perché secondo me Si poteva mettere Semplicemente Una sua foto Con la scritta E basta Però capisco anche Che cosa Quando si dice A pensare male Si fa bene Beh perché Allora Decidono di pubblicare Questa inchiesta Su Chiara Ferragni Proprio l'8 marzo Che è ovviamente Un giorno simbolico Per le donne Anche qui È una casualità O forse È stato voluto Cioè Le persone si sono messe Al tavolo E hanno detto Ok L'8 marzo Festa della donna Dobbiamo pubblicare Questo su Chiara Ferragni Può anche darsi Cioè io non credo Che le scelte Soprattutto a livello Di Come posso dire Agenda setting Cioè quindi Quello che si vuole comunicare Non sono casuali Non sono random Come forse Si vuole far credere Quindi Anche la scelta Di affossare In qualche modo Chiara Ferragni In questa giornata Non so Devo dire Che un po' Mi ha dato da pensare Però insomma Giusto Giusto L'inchiesta Era forse Necessaria Questa copertina Diciamolo Ingiuriosa Secondo me no E badate bene Io non sto Dicendo No vabbè Ma questa è Ma questa è violenza Sulle donne Come è stato detto Perché io non credo Che in questa vicenda Si debba parlare Del genere Di una persona Cioè Al posto di Chiara Ferragni Poteva esserci benissimo Anche un uomo Infatti Se vediamo La copertina In quanto Elementi Raffigurativi Cioè Lei è stata presentata Giacca e cravatta Come un uomo D'affari Che possiamo pensare Ok Lei è una donna D'affari È una Imprenditrice Quindi Quando quelle persone Che abbiamo letto prima Dicono Ma qua non si sta parlando Di Chiara Ferragni In quanto donna Ma in quanto Imprenditrice In quanto Potenza economica Effettivamente Hanno ragione Quindi Le persone Che parlano Di violenza Sulle donne Con questa copertina Secondo me Cioè Io non dico Che sbaglino Perché comunque A primo impatto Ci può anche stare Però ci dobbiamo Rendere conto Che se vogliamo La parità Beh La parità Ci deve essere Anche nel momento In cui una persona Sbaglia Cioè Come sono finiti Su quella copertina Degli uomini Che hanno fatto Delle cose Non giuste A livello politico Eccetera Eccetera Ci può finire Anche una donna Cioè io credo Che qua Non si parli Né di uomini Né di donne Si parli semplicemente Di persone Che hanno Il potere Ed effettivamente Chiara Ferragni È una donna potente Ha delle società Che si è creata Da sola Cioè questo bisogna Dirlo E ammetterlo È un'importantissima Realtà Finanziaria Economica Imprenditoriale Qui in Italia Quindi solo un pazzo Direbbe no Non è vero È vero È una donna potente O comunque Lo è stata Fino a qualche mese fa Secondo me Lo è tuttora Perché comunque Se parte Della stampa italiana Pende dalle sue labba Pende da Tutto quanto Da tutto quello Che lei fa Nella sua vita Hai del potere Ti è stato dato Lo hai scelto tu Insomma Poi questo è Un discorso Ben più ampio Però facciamo Un ragionamento Giusto Non pensiamo Che tutto Sia contro Le donne O contro Gli uomini Perché sono uomini Contro le donne Perché sono donne No Qua si parla Semplicemente Di hai sbagliato E quindi noi Parliamo di te Hai fatto qualcosa Di male C'è un'inchiesta Che tu sia donna Che tu sia un uomo Quindi indipendentemente Dal sesso di una persona Questo spero In parte Che qualcuno Lo abbia capito Detto questo Comunque io ve lo ripeto A me non è piaciuta Questa copertina Perché credo Veramente Che si sia arrivati Ad un punto Di non ritorno Cioè Chiara Ferragni Avrà fatto i suoi errori Sicuramente L'ho ammesso Anche lei In prima persona Ma questa agogna Mediatica Sempre più Forte Sempre più Accanita Perché di questo Parliamo Un vero e proprio Accanimento A livello mediatico Su Chiara Ferragni Perché quello Che abbiamo visto Contro di lei Io non l'ho L'ho visto poche volte Qua in Italia Ok Per altre questioni Magari non c'entravano Questioni giudiziarie Centravano però Questioni sentimentali Eccetera eccetera Cioè ricordo di aver visto Delle situazioni Vergognose Per quanto riguarda Belen E si parlava di un triangolo Amoroso ragazzi Questo per farvi capire Quanto gli italiani Vogliano poi sapere La cronaca rosa E si scaldino Su questi temi No? Quindi Insomma vabbè Non è questo il caso Ma purtroppo è vero C'è una fortissima Agogna mediatica Fortissima Cioè è innegabile Questo Ok Quindi vedere Chiara Ferragni Affossata In qualsiasi modo A prescindere da questa copertina A me fa riflettere E fa male Perché Qualora Chiara Ferragni Dovesse farsi del male Dovesse togliersi la vita Io magari starò anche esagerando Dicendo queste cose Ma potrebbe succedere Di chi sarà la colpa? Quelli che piangeranno Poverina Lei salutava sempre Era una bravissima donna Eccetera eccetera Sono gli stessi Che adesso sono i suoi detrattori? Non lo so ragazzi Perché tutto può essere Purtroppo in Italia Così funziona Sbagli Gogna mediatica Ti succede qualcosa Poverino No Ma ha fatto sempre del bene E no ragazzi Cioè io non Non so veramente Che cosa pensare Ok Quindi cioè Siamo di fronte Veramente Ad un caso Di cronaca Ma a livello proprio Di gogna mediatica Che forse non ha precedenti Quindi Mi sento di dire Massima solidarietà A Chiara Ferragni In questo momento Non perché io debba Difenderla Ma perché umanamente Mi dispiace per lei Non è giusto Tutto questo accanimento Nei suoi confronti Non è giusto Che lei debba In qualche modo Impersonificare Un caprio espiatorio Per le colpe Di mille altre persone Qua in Italia Iniziamo forse a fare Delle inchieste Su persone che veramente Mandano l'Italia A rotoli Con questo non voglio dire Che lei non abbia sbagliato Ma sicuramente Ci sono situazioni Ben più gravi Che non sono neanche Mai state Raccontate Da nessuna parte Quindi insomma Vabbè Vedremo cosa succederà Questa è anche L'Italia Anzi L'Italia è anche questa Detto questo Aspetto i vostri Di commenti qui sotto Come sempre Fatemi sapere Che cosa ne pensate Il video finisce qui E spero che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora Non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete Seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark? Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao